Buongiorno a tutti da Filippo Giannini di Trading Facile e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la videoanalisi sui principali mercati, le strategie dei nostri trading system. Oggi mercoledì tredici marzo duemilaventiquattro al solito faremo un recap di quanto accaduto nei giorni scorsi e cercando anche chiaramente di capire quelle che potranno essere le prospettive nel breve termine per i principali asset. Come al solito io vi ricordo di seguirci sul nostro sito www.tradingfacile.eu qui trovate tutti i nostri servizi legati al mondo del trading automatico. Vi ricordo di seguirci anche se non siete ancora iscritti di entrare a far parte della nostra community quindi iscrivetevi ai canali youtube pagina facebook e canale telegram per seguire tutti le nostre iniziative in tempo reale e poi per qualsiasi informazione sui nostri servizi ci potete scrivere a infochioccio la tradingfacile.net qui trovate anche il calendario con i webinar gratuiti che diciamo ecco la formazione gratuita ripartirà nel corso del mese di marzo e via via nel prossimi nei prossimi giorni aggiungeremo anche gli eventi a marzo e chiedo scusa aprile e maggio che già vi preannuncio saranno in numero ben maggiore rispetto a quanto abbiamo abbiamo fatto insomma nel nel recente passato il prossimo appuntamento è comunque per mercoledì venti marzo alle ore diciotto parleremo di operatività sul DAX nel breve termine quindi eh l'iscrizione chiaramente è gratuita io vi aspetto numerosi mercoledì venti marzo alle diciotto il link lo trovate anche eh sotto alla descrizione qui sul sul video di di YouTube quindi cerchiamo in generale di fare il punto su quanto accaduto nei giorni scorsi qui siamo sul Fuzzimib quindi il benchmark italiano che un po' come tutto il comparto eh azionario ha registrato e continua a registrare delle performance positive eh per quanto riguarda lo scenario macro ieri abbiamo avuto eh il i dati sull'inflazione core americana eh inflazione che eh continua a tenere alta la testa quindi quello che in generale stiamo vedendo insomma sia dai dati di ieri sull' inflazione ma anche sui dati dei non farm payroll che abbiamo visto venerdì scorso eh è quello insomma ancora di un'economia americana piuttosto forte e quindi eh un'economia appunto che si mantiene diciamo ecco eh piuttosto forte un po' diciamo ecco sia sul per quanto riguarda l'inflazione che non non vuole saperne insomma di eh rientrare su quelli che sono i target auspicati eh dalla Fed ma anche il mercato del lavoro continua ad essere forte. Questo chiaramente alimenta la prospettiva di tassi che potrebbero rimanere alti eh più a lungo sappiamo che nel corso dei mesi scorsi il mercato aveva stimato sei tagli dei tassi eh da parte della Fed per quanto riguarda il duemilaventiquattro ora sappiamo che eh saranno al massimo tre i tagli da qui a fine anno e probabilmente li vedremo tutti nella eh seconda parte dell'anno. In generale quello che abbiamo visto ieri è quindi un un obbligazionario eh comunque in eh in aume in salita per quanto riguarda chiaramente i rendimenti e quindi in discesa per quanto riguarda eh i prezzi eh e quindi diciamo ecco questo eh ha alimentato un po' un rally un po' su tutti i principali eh listini eh ma in maggior misura proprio su eh mercati come quello italiano ad esempio che eh lo sappiamo è un mercato fortemente sbilanciato lato bancari e quindi qui la prospettiva per quanto riguarda il comparto bancario di continuare a vedere dei tassi alti eh ancora diciamo ecco per per un lasso di tempo diciamo ecco quantomeno eh di eh sei mesi alimenta appunto ha alimentato un rally sul nostro Fuzzimib mercato che un po' come avevo auspicato eh nei giorni scorsi per chi ci segue appunto sul sul bloc eh al break appunto di quelli che erano i precedenti massimi quindi ai trentatremila e cinquecento punti ehm ha visto insomma ecco un ulteriore accelerazione al rialzo andando a testare quella che era la prossima area chiave ovvero quella che vedete qui eh che è appunto quella compresa tra i trentatremila e sette i trentatremila e ottocento punti quindi ora in generale come muoversi nelle prossime eh sessioni allora mh diciamo ecco dopo quanto abbiamo visto ieri in generale oggi non mi aspetto diciamo alcuna eh seduta diciamo così di pari volatilità quindi mi aspetto un mercato che potrebbe comunque continuare a eh lateralizzare su questi livelli eh per nuovi ingressi long però appunto ci andrei piuttosto cauto in questo momento perché perché comunque non dobbiamo dimenticarci che eh venerdì è giornata di scadenze tecniche per future opzioni eh il contratto del Fib scale venerdì mattina o meglio il rollover eh previsto per venerdì mattina alle nove zero cinque eh e quindi occhio perché la mia idea è che ecco il mercato affronta appunto di questo target importante fatto ieri potrebbe a questo punto magari ecco lateralizzare nella giornata di oggi e di domani e e poi insomma partire da eh venerdì mattina dopo appunto il rollover sul nuovo contratto giugno magari potremmo osservare osservare quella che eh è una classica inversione post scadenza tecnica quindi occhio diciamo ecco a mantenere le posizioni eh lunghe diciamo ecco dopo il rollover perché il mercato potrebbe stornare chiaro che il mercato eh lo si vede chiaramente è impostato ehm è impostato diciamo ecco in maniera fortemente appunto rialzista però diciamo ecco dopo il rollover eh sicuramente il primo livello da monitorare è quota trentatremila e eh quattrocentocinquanta punti quindi qui è eventualmente in caso di correzioni dove andrei andrei a ricercare appunto dei pattern eh in intraday comunque di accumulo quindi comunque delle candele che dovessero mostrare un qualche tipo di eh reazione però occhio perché appunto se dovesse aumentare la volatilità non è esclusa che eh che il mercato possa andare anche a ritestare eh livelli più bassi come a quota trentatremila punti eh dove invece qui mi aspetto diciamo ecco con maggiore probabilità una eh reazione proprio perché il tipo di supporto è maggiormente significativo in generale qui c'è un'area secondo me eh piuttosto forte che dovrebbe contenere ehm i tentativi di affondo anche ripeto qualora dovessimo osservare un aumento di volatilità marcata eh qui il livello diciamo un pochino spartiacque e a quota trenta due mila e seicentocinquanta punti solo qualora dovessi vedere il mercato scendere al di sotto appunto di questo livello eh a quel punto secondo me eh dovremmo diciamo ecco uscire da uno scenario appunto eh di che prevede appunto di eh cercare occasioni di eh riacquisto sulle discese perlomeno appunto nel nel breve periodo passando al DAX anche qui eh DAX ieri sugli scudi tra l'altro mercato che nei giorni scorsi ha reagito su un sul livello che avevo dato eh ovvero appunto sul supporto a a diciassettemila e settecentoquaranta punti e da qui poi siamo saliti ieri il mercato ha fatto nuovi massimi eh e qui eh occhio vale un po' diciamo ecco lo stesso discorso fatto per per il Fuzzimib perché perché innanzitutto eh mercato ha raggiunto quota diciotto mila punti quindi sappiamo che i numeri tondi sono eh sempre comunque eh sensibili ehm e poi insomma ecco vale lo stesso discorso fatto per il Fuzzimib anche qui venerdì sarà giornata di scadenze tecniche in questo caso scadenza tecnica prevista per venerdì alle tredici quindi occhio perché dal pomeriggio eh dovremmo assistere quantomeno diciamo ecco ad una ad una correzione e mercato che ecco magari eh chiaramente da qui a a venerdì comunque non dovrebbe eh di contro scendere troppo e magari ad esempio sul test dei diciassettemila e novecentotrenta potrebbe invece dare qualche possibilità diciamo di rientrare long con delle posizioni eh di prospettiva intraday quindi posizioni di brevissimo termine eh anche qui abbiamo il solito supporto a diciassettemila settecentocinquanta punti che dovrebbe contenere i primi tentativi di affondo eh dovessimo anche qui osservare un aumento appunto della volatilità e quindi qui non solo diciamo ecco volatilità storica ma anche volatilità eh implicita che in questo momento continua a stazionare sotto quota quattordici punti quindi volatilità piuttosto marcata e quindi anche qui magari un scenario di post eh scadenza tecnica eh nel quale appunto dovremmo osservare contestualmente anche un forte aumento della volatilità implicita a quel punto diciamo ecco attenzione a comprare le discese sul DAX perché il mercato potrebbe anche eh rompere diciamo questo supporto intermedio di diciasettemila settecentocinquanta e andare a testare il supporto diciamo che si trova più in basso che è di che è dei diciassettemila e seicentoventi eh dove qui invece mi aspetto una eh reazione e analogamente per il FIB se questo livello dovesse dovesse essere rotto a ribasso allora qui mi aspetto diciamo alcun ulteriore eh accelerazione passando diciamo a ad America eh per quanto riguarda appunto SP eh cinquecento qui diciamo il anche se eh la scadenza tecnica è prevista per venerdì alle quindici tipicamente il rollover eh perlomeno per la maggior parte dei volumi avviene in maniera eh anticipata eh quindi qui la statistica ci dice che eh già da domani dovremmo vedere dei volumi maggiori sul nuovo contratto giugno quindi già da domani eh vale la pena appunto guardare il il contratto giugno perché tipicamente ehm ha volumi maggiori e quindi anche qui vale un po' lo stesso discorso oggi non mi aspetto grossi movimenti il mercato eh tuttavia potrebbe in apertura di cash andare a ritestare insomma quello che era stato il livello eh che aveva fatto un po' da eh resistenza appunto nella prima parte della sessione di ieri ovvero quota cinquemila centosessantacinque quindi alla giornata odierna mi avviso qualora il mercato in apertura di cash dovesse andare a ritestare questo livello ci sarà spazio per cercare delle opportunità long però anche qui con un orizzonte eh di trading di tipo eh intraday perché comunque ripeto anche qui a partire da venerdì il mercato potrebbe diciamo sperimentare una correzione più marcata in quest'ottica primo supporto da monitorare cinquemila e centocentra punti eh più in basso quota cinquemila e centodieci solo qualora dovessimo scendere eh sotto a cinquemila e centodieci attenzione perché appunto a quel punto il mercato potrebbe andare tranquillamente eh fino a quello che è eh un'area veramente significativa che è questa dei cinquemila e zero sessanta punti chiamata a contenere appunto questo qui troviamo un supporto veramente significativo non solo dal punto di vista statico ma anche dal punto di vista volumetrico e quindi mi aspetto che ehm questo supporto diciamo riesca a contenere eventuali tentativi di affondo. Eh ultima considerazione riguarda il gold mercato diciamo ecco molto chiacchierato diciamo così nel nel corso degli ultimi giorni perché perché chiaramente protagonista di un rally veramente significativo eh e qui eh nella giornata di ieri avevamo dato un segnale sul blog per chi ci segue eh diciamo ecco che si è dimostrato eh veramente appunto eh fortemente remunerativo perché appunto avevamo eh sottolineato come in caso di breakout dei duemila cento settantotto eh avremmo avuto con tutta probabilità un'accelerazione al ribasso con target sui duemila cento sessantatré e vedete che eh il mercato diciamo ecco ha eh rispettato in pieno appunto i i livelli che avevamo dato eh occhio perché diciamo ecco a quota duemila cento sessantatré c'è comunque sia un primo livello eh volumetrico importante di supporto ehm oro che vale la pena sottolinearlo appunto ieri è sceso appunto proprio sulla prospettiva di eh tassi eh appunto ancora alti e quindi sulla scia ehm di appunto quello che abbiamo visto sul sull'obbligazionario ovvero una forte diminuzione lato prezzi quindi un incremento di eh significativo lato eh rendimenti e quindi sappiamo che il tutto il rialzo eh del gold è appunto alimentato da questa prospettiva che c'è per il duemilaventiquattro di tassi eh in discesa eh e quindi occhio perché dopo lo storno eh di ieri eh il mercato potrebbe anche a mio avviso ora fare eh appunto a fronte di queste candele diciamo ecco eh di espansioni di volatilità ribassiste fatte nella giornata di ieri il mercato potrebbe anche fare da qui a venerdì anche ehm battere livelli più bassi quindi raggiungere quota duemila centocinquanta punti però qui a mio avviso qualora dovessimo vedere il mercato su questi livelli c'è una importante opportunità eh di acquisto perché perché il mercato comunque andrebbe a eh ritestare un altro livello volumetrico ancora più importante quindi quello di duemila centocinquanta e anche a livello tecnico vedete che il mercato andrebbe ad appoggiarsi su questa trendline eh rialzista che di fatto aveva contenuto diciamo ecco il primo eh vero rally tra novembre e dicembre del mila ventiquattro eh e ora il mercato appunto andrebbe ad appoggiarsi tra l'altro su quelli che erano i precedenti massimi storici quindi qui segnale avremo un segnale appunto long veramente a mio avviso eh importante e significativo bene andiamo a chiudere come come sempre andando a vedere eh alcune operazioni dei nostri trading system nei giorni scorsi eh partiamo proprio appunto da eh quanto abbiamo visto ieri sul nella giornata nella mercato del gold in questo caso eh questa è una strategia eh intraday basata appunto su eh livelli di eh breakout dettati dal Don Kian Channel è un indicatore diciamo ecco piuttosto eh famoso e utilizzato in analisi tecnica e quindi qui eh sul breakout eh mattutino appunto di quelli che poi erano i minimi della sessione precedente eh il sistema è entrato short in questo caso la posizione eh viene comunque sia forzatamente eh chiusa alla fine eh della sessione e quindi eh operazioni che ci ha permesso di eh portare a casa eh circa 20 punti appunto di eh di gain. Eh per quanto riguarda appunto altre operazioni che abbiamo visto nei giorni eh scorsi ad esempio c'è stato questo long appunto su euro dollaro eh questo è un sistema che invece lavora sui break di volatilità in questo caso il il sistema era entrato sul break di quota uno zero otto e settanta questo è un sistema eh multiday che porta poi le operazioni tipicamente fino al al venerdì a chiusura e quindi eh in questo caso appunto anche qui operazione significativa quasi 80 punti di gain eh portati a casa abbiamo avuto anche diciamo ecco delle altre operazioni eh minori magari ecco dettate da strategie che lavorano eh in scalping eh andando a vedere diciamo ecco quello che eh invece sono le operazioni aperte eh in questo momento diciamo ecco abbiamo un'operazione eh sul Nasdaq questa è un'operazione appunto che sfrutta appunto una fascia oraria ben definita appunto per quanto riguarda eh i rialzi ovvero quella serale sul Nasdaq eh quindi siamo appunto al al rialzo in questo momento sul Nasdaq eh siamo anche al rialzo per quanto riguarda appunto eh l'euro dollaro e abbiamo poi anche una eh posizione invece in questo caso eh short sul eh sul VTI eccola qua eh e quindi diciamo ecco poi vedremo queste sono chiaramente tutte posizioni al di fuori appunto della eh di questa sul Nasdaq posizioni diciamo ecco che vengono chiuse ehm comunque alla fine di questa sessione eh mentre la posizione su eh euro dollaro e quella su ehm sul petrolio sono posizioni diciamo in ottica eh settimanale quindi ecco non prevedono poi la chiusura intraday. Bene anche per oggi è tutto io vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu eh per qualsiasi informazione ci potete scrivere a infochiocciolatradingfacile.net anche per oggi è tutto un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading opposition per oggi è tutto un po' Grazie.